Tra le curiosità che abbiamo visto qua c'è questa borsa, si chiama FitFun, guardate è una borsa morbida, è un bauletto morbido che viene montato sugli scooter, ma attenzione, in un attimo diventa una borsa, ma oltre a tutto basta girare una chiave di sicurezza ovviamente che c'è qui dietro e la borsa ovviamente viene via e si può andare direttamente in palestra e rimane così, direi che è estremamente comoda ed è una vera e propria curiosità molto molto utile. Per chi invece ha delle moto differenti come questa Harley Davidson, la borsa posteriore ideale ovviamente è in cuoio e in questi casi abbiamo anche come il cavallo dei vecchi cowboy la coperta da poter portare avanti, ma qua ce n'è veramente per tutti i gusti, le abbiamo vedete in cavallino, in cuoio, cuoio e pitone, in pitone, veramente ce n'è di tutte le grandezze, di tutti i tipi per i vari tipi di moto, certe sono veramente molto molto grandi, e altre si possono anche personalizzare, come questa per esempio.